Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi andiamo a testare un setup da veri barboni per affrontare escursioni Un setup da 70 euro in totale Lo faremo andando a visitare la stupenda torre di Capoduomo sul monte Argentario Ma che cosa sto indossando? Maglia MH100 6,99 euro Pantaloni MH100 14,99 Calze Ike 100 che costano 7 euro Le scarpe le MH100 mid da 19 euro E lo zaino l'Arpenance 100 da 30 euro Ma adesso basta con le chiacchiere Andiamo a vedere come si comporta questo setup da veri barboni su un sentiero Andiamola a scoprire ragazzi Dai ragazzi siamo specialmente partiti per andare alla scoperta di Capoduomo Un luogo incredibile ci sono già stato Non vedo l'ora di essere lì Perché ho scelto questo setup? Semplicemente ragazzi perché se Decathlon ha fatto questi articoli costano così poco Ma voi non pensate che un fottuto motivo potrebbe esserci? E qual è questo benedetto motivo? Beh ragazzi molto molto semplice L'avvicinamento all'escursionismo Il sentiero di oggi è perfetto per andare a utilizzare queste scarpe Questo setup come potete vedere è una strada bianca Che ci porterà comunque in un luogo incredibile Penso anche a chi magari non lo so ma va con delle guide Va con quei gruppi organizzati per la prima volta E perché dovrebbe comprare un setup che costa un sacco di soldi? Prenditi un bel cinquantone circolare Magari lo zaino ce l'hai già Così puoi comprarti tutto il setup Bene ragazzi ecco là dietro la nostra meta Lassù si cela il bellissimo Capoduomo Ma in questa giornata stupenda Guardate come si vede l'isola del Giglio Sembra quasi di perla toccare Incredibile Guardate ragazzi che luogo meraviglioso Guardate ragazzi con questo setup Che fa tanto discutere In che luogo sono arrivato Veramente incredibile Guardate ragazzi Ebbene ragazzi siamo arrivati A Capoduomo A Capoduomo Ga ma A Magari Ebbene ragazzi La Cheva anche bene ragazzi siamo ufficialmente arrivati al capoduovo andiamo ad analizzare prima di farvi vedere ovviamente più nel dettaglio questo stupendo luogo vi parlo del setup come si è comportato la maglia ragazzi ve la straconsiglio lo userò anche per farci un cammino 6 ore 99 davveri davvero spesi bene ve la straconsiglio la mh 100 per quanto riguarda i pantaloni uguale affrontato il cammino di santiago dell'isola gran canaria con loro e si comportano davvero in modo egregio sono traspiranti non si fanno davvero mai sentire le calze sono le più semplici le ai 100 ma che comunque fanno il loro senza problemi anche per quanto riguarda le scarpe vanno ragazzi benissimo per affrontare sentieri tutto sommato semplici ma offrono comunque grip ragazzi non dovete avere paura perché queste scarpe si costano 19 euro ma per iniziare o magari se dovete affrontare non lo so un'escursione con delle guide e voi volete approcciarvi al mondo dell'escursionismo prendetela ragazzi non avete paura non abbiate paura se costano solamente 20 euro fidatevi del vostro tom che per iniziare per fare i primissimi passi in montagna o comunque in escursione vanno benissimo che cosa vi rimane da dirvi dello zaino ragazzi l'arpenaz 100 che è una certezza questo zaino che non solo vi rimarrà per le prime escursioni ma vi rimarrà anche dopo sarà uno zaino che potrete utilizzare all'infinito e robusto ma ora non so da quanti anni ce l'ha è vero non è mai cambiato e magari prima o poi dovranno aggiornarlo ma per adesso questo zaino che costa solamente 19 euro è veramente perfetto bene ragazzi il totale di questo setup è 70 euro io ve lo straconsiglio per escursioni per le tue prime escursioni adesso ti porto un po la scoperta del bellissimo luogo di capoduomo sul monte argentario e che dirvi ragazzi grazie di essere stati con me noi ammiriamo il tramonto che lentamente arriva e che vi devo dire lasciatemi così ci vediamo al prossimo video un saluto dal vostro tom ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao